Oh ragazzi allora, buona giornata a tutti, mentre comunque c'è sempre qualcuno che fa video contro gli Ultras che poi ovviamente quando invece fanno beneficenza vorrei sapere di questi qui che dicono ecco gli Ultras sono sempre così dove erano quando gli Ultras dopo il ponte crollato al Morandi sono andati da tutta Italia ad aiutare Genova nel terremoto, dopo il terremoto ad Amatrice la stessa cosa, dopo il terremoto all'Aquila la stessa cosa questi qui invece parlano, stanno a casa ovviamente e non citano mai questi episodi da parte degli Ultras che fanno molto di più nel suo sale rispetto a questi individui, comunque a parte questo chiusa parentesi allora, ieri avevo postato perché avevo letto in tutto lo stadio, invece, se noi andiamo a leggere quello che ha scritto la curva Ovest Ferrara ragazzi, allora, quindi, sabato si pronuncia un Paolo Mazza, sì un Paolo Mazza tutto esaurito, quindi inutile nascondersi dietro un dito vabbè, ci saranno anche moltissimi tifosi occasionali che non verranno per la nostra spalla e va bene, poi, allora, a questi chiediamo di essere intelligenti, rispettosi e di tenere ben a mente che il Paolo Mazza è casa nostra e per me non c'è veramente nulla di sbagliato in questa frase portategli il rispetto che merita non vogliamo vedere, né all'interno, né davanti alla curva, sharp abbigliamento e nessun tipo di gadget con i colori bianconeri io sono pienamente d'accordo perché la curva e in curva si va il tifo più passionale, quello che canta, quello che incita la squadra e ci sono i settori popolari e settori che si chiamano curva apposta poi hanno scritto PS, cerebro, lesi, porca troia ovviamente non ci riferiamo al settore ospiti quindi loro si riferiscono alla propria curva fanno e hanno fatto benissimo scrivere questo comunicato perché poi nelle piccole realtà molte volte ci sono quelli che vanno nella curva avversaria con i colori di quella squadra, soprattutto se è una grande squadra e questa cosa è sbagliata, se non assolutamente rischiosa anche solo chi è malato di cervello va in una curva avversaria con colori della propria squadra vai nel tuo settore ospiti poi qua ci sarebbe da fare un'altra parentesi la tessera del tifoso ha complicato tutto perché chi non ha la tessera del tifoso deve andare in altri settori ma non andare in curva, vai in tribuna ok, vai in altri settori tutto lì quindi io penso che la curva ovest abbia fatto un comunicato per me è logico per me è logico onde evitare poi situazioni dato che qua stanno facendo esperimenti sociali con tifoserie mischiate per poi da spare un po' di gente in altre sedi, insomma, in altri stadi allora hanno fatto bene a fare un comunicato ufficiale del genere non è istigare all'odio e alla violenza semplicemente si dice la curva è un settore popolare le curve sono fatte proprio per dividere le due tifoserie più calde quindi se tu vai in curva in una curva avversaria con i tuoi colori rischi e lo sai ok punto perché viene vista come cosa provocatoria punto quindi io personalmente non mi sento di condannare la curva ovest anzi penso che abbiano fatto un comunicato più che altro anche logico per prevenire più che altro certe situazioni quindi dicono ragazzi non volete problemi andate in altri settori non venite in curva nostra perché hanno ragione è la loro curva con i colori degli avversari punto ok non vedo veramente nulla di strano e di sbagliato vedo di sbagliato invece chi minimizza questi comunicati chi non ragiona più da tifoso non ha mai ragionato da tifoso ma ragiona da cliente ragiona da perché no siamo una grande tifoseria e quando sei una grande tifoseria purtroppo queste sono le cose negative che poi hai perché hai questi tipi tra virgolette i tifosi che non hanno probabilmente mai vissuto la curva ha mai vissuto la rivalità non hanno rivalità ma se voi non avete rivalità contro altre squadre e altre tifoserie ciò non significa che gli altri non debbano avercele queste rivalità quindi rispettate gli altri perché poi è facile criticare sempre da casa senza mai magari andare a vedere appunto una partita in trasferta non dalla tribuna VIP lì negli skybox la comodi con lo champagne ragazzi con robe che veramente io disgusto perché quella non è più passione ma è ripeto business clientela questo è quanto fatemi sapere la vostra cosa ne pensate questo comunicato ufficiale della curva Ovest io penso non abbiano sbagliato nulla e penso che sia una cosa logica e preventiva soprattutto perché è giusto prevenire più che altro ok buona giornata a tutti sempre comunque fino a fine forse Juventus